Mi chiamo Harry Ellis e sono il presidente di South Coast Controls. Siamo un'azienda di integrazione di sistemi, quindi progettiamo e realizziamo quadri elettrici. Ci rivolgiamo a molti settori diversi. Abbiamo una divisione pneumatica che si occupa di apparecchiature ad aria compressa, che è stata avviata nel 1976. Dieci anni dopo è nata South Coast Controls, in cui progettiamo e realizziamo quadri elettrici. Un anno e mezzo fa invece abbiamo avviato una divisione robotica. La nostra azienda stava continuando a crescere, per questo è nata la necessità di espanderci. Nel nostro stabilimento di 6.000 metri quadrati stoccavamo i prodotti su scaffalature. Se non avessimo scelto Modula, l'altra opzione era l'acquisto di un altro edificio e a 400 dollari al metro quadro nella contea di Orange sarebbero stati altri 2 milioni e mezzo di dollari. Quindi l'acquisto di Modula è stata la scelta giusta. Quei 6.000 metri quadrati li abbiamo messi in un Modula. Attualmente nel nostro Modula abbiamo un inventario di circa un milione di dollari. Uno dei grandi vantaggi è la sicurezza che ci offre. Siamo in grado di stoccare l'inventario in modo sicuro e limitare l'accesso a determinati dipendenti finché il prodotto non è pronto per essere utilizzato. Il processo è molto più semplice con Modula perché tutto l'inventario si trova in un'unica posizione. Quando i materiali acquistati arrivano, vengono stoccati dentro al magazzino Modula fino a quando non siamo pronti a realizzare il progetto. Abbiamo tre dipendenti che lavorano quotidianamente con Modula. Si occupano di prelevare il materiale da spedire al cliente ma anche di portarli in produzione per realizzare progetti specifici per i nostri clienti. La formazione per Modula è molto rapida, è molto facile da usare. Uno dei vantaggi di Modula è che dispone di un ottimo customer care. Quando abbiamo bisogno di supporto, i tecnici arrivano nel giro di 10 o 15 minuti, risolvono il problema e siamo di nuovo operativi. Modula ha sicuramente aumentato la nostra produttività ed efficienza. Abbiamo meno problemi di materiale mancante o di tempi di inattività per la ricerca della merce perché è tutto gestito dal magazzino Modula. Consigliamo senz'altro di investire in un Modula, sia per risparmiare spazio e tempo, ma anche per la gestione quotidiana degli articoli è un'automazione che dà un grande aiuto. È un ottimo alleato, è uno di quegli strumenti che si acquistano e quando lo si acquista si vorrebbe averlo fatto dieci anni prima. Grazie per la visione! Grazie per la visione!